Svuotamento del boiler Prima di tempi di fermo prolungati, dovreste svuotare assolutamente il boiler. Ecco come fare. Posizionate il vostro camper su un punto di scarico adeguato, spegnete la pompa dell'acqua per fare in modo che nel boiler non venga più pompata acqua. Aprite tutti i rubinetti dell'acqua calda in cucina, in bagno e nella doccia. Ora potete avviare il processo di scarico. Sullo strumento di controllo manuale, tenete a tale fine la manopola di sinistra sulla posizione di svuotamento del boiler per almeno 5 secondi contro la forza della molla. Se disponete del pannello di controllo digitale, selezionate Svuotamento del boiler dal menu e confermate con OK. Ora il processo di svuotamento si avvia ed il boiler si svuota. La valvola di scarico di sicurezza elettrica si chiude automaticamente dopo circa 90 minuti. Il processo di svuotamento può essere interrotto mantenendo la manopola di sinistra sullo strumento di controllo manuale per almeno 5 secondi su Svuotamento del boiler. Sullo strumento di controllo digitale, premete il tasto di stop per terminare.